Da cosa si riparte? Ma posso rispondere un attimo al Ministro? Perché sinceramente ho sentito delle cose che sono veramente scorrette. Io capisco il bon ton del Ministro e apprezzo e capisco la difficoltà che stanno affrontando, ma stanno veramente sbagliando tutto. Cioè questi non vogliono capire che stanno sbagliando i conti, ma di brutto. Sbagliano proprio il sistema. Io immagino che sia positivo il fatto che... Ma Ministro, ma mi lasci finire un attimo, per una volta, non ci ascolta mai, almeno una volta tanto che Paolo mi faccia sentire, no? Le sto dicendo che non funziona sta roba qua. Non abbiamo neanche la possibilità di far muovere la gente dalle isole. Vuoi capire che le isole non si può andare a nuoto? Vuoi capire che non ce la facciamo? Le sto dicendo che non ce la facciamo. I conti sono sbagliati. State sbagliando i conti. Non è che siete cattivi, siete proprio incapaci. Non è che... Lei è rimasto al servizio di prima. Adesso stiamo parlando di come funzionare i vari istituzionali. Lei deve ascoltarmi bene prima, perché lei risponde sempre e interrompe pure. Lei non chiama mai. Lei sta proprio sbagliando i conti. È meglio che imposti la discussione con un minimo di civiltà. I debiti di dare lezioni agli altri. Io non do lezioni agli altri. Facciamo per volta, litighiamo con noi. Cerchiamo di discutere in modo di decidere cosa sta succedendo. Ma cosa vuoi discutere se non mi ha spunti? Cerchiamo soprattutto di discutere in modo ordinato. Ci si assumono tutte le proprie responsabilità. A voi parlate di premio. Cerchiamo di discutere in modo ordinato. Sindaco, se no non si capisce niente. Sindaco, viceministro, poi le do la parola. Però volevo sentire finire il sindaco, per favore. Sindaco, finisca il suo concetto, perché se no non capiamo nulla. In cosa ha sbagliato il governo, sindaco? In cosa ha sbagliato il governo? Sì, però devo spiegare che i cittadini non si muovono dalle isole. Nelle isole ci vogliono i battelli. Non abbiamo la possibilità di farli muovere. Lo vuoi capire o no? Le spazzature, non riusciamo più a raccoglierle. Ne stiamo spiegando tutti quanti. Siete sordi, incapaci e boriosi. Allora, viceministro, facciamo il quadro. L'accusa è che le isole sono isolate in questo momento. Non si riescono a spostare tra un'isola e l'altra. E c'è anche il problema della raccolta dei rifiuti. Questo sta dicendo il sindaco. Ma noi soprattutto veniamo fuori anche da... Veniamo addirittura fuori da un'emergenza gigantesca che è dall'acqua grande. Ma se pensate, 54 miliardi e non trovano 150 milioni per salvare Venezia. Incapaci, pazzi siete. Vice-ministra, lei... Pazzo, lei lo dice a qualcun altro, è chiaro? Lei deve portare rispetto. Ma lo dico a lei, a tutto il governo. Lei deve portare rispetto. Allora, io non le permetto di usare questi temi. Non ve lo meritate. Deve portare rispetto. Non ve lo meritate. Che lei sia in campagna elettorale. A me non può interessare di meno. È chiaro? La piante di usare toni da campagna elettorale. Qui dobbiamo lavorare nell'interesse degli italiani e anche degli veneziani. Ma cosa lavorare? È chiaro? Voi non ascoltate nessuno. Voi non ascoltate nessuno. A chi è chiaro? A chi è chiaro? Non ascoltarli a cruce insensate. State sbagliando i conti, state regalate i soldi a cavolo. Vada da un'altra parte. Questa è verità. Gli imprenditori stanno chiudendo. C'è un'esasperazione, Vice Ministro, sicuramente. C'è sì l'esasperazione. C'è un'esasperazione. Io sono esasperato. Io sono esasperato dalle polemiche strumentali. Di che devi fare polemica perché appartiene ad un'altra parte politica invece di collaborare. No, stiamo chiudendo le imprese. E gli italiani ne hanno abbastanza di queste polemiche di un paese che va in ordine sparso. Cioè lei pensa che sia questo? Sia un problema di propaganda in questo momento? Non crede che sia un problema reale questo? I problemi reali li si affrontano senza insultarsi. E' chiaro? Quando si usano questi toni evidentemente si vuole fare campagna elettorale. Siccome a Venezia si vota nei prossimi mesi, il sindaco Brugnaro ha interesse di polemizzare contro il governo. Io ho interesse a cercare di risolvere i problemi, compresi i problemi del comune di Venezia. Se il sindaco Brugnaro si degna di abbassare i toni, noi i problemi cerchiamo di risolverli. Se invece è un chacchius, faccia quello che vuole. E anche la mascherina ci è arrivata a noi. A noi non è arrivata una mascherina, non c'è arrivato niente qui, niente. Però sindaco, proviamo a far rispondere il vice ministro. Facciamo rispondere il vice ministro perché la situazione mi pare abbastanza chiara. Uscendo da quella che lei vice ministro può considerare un attacco da campagna elettorale, i problemi reali però a Venezia, da quello che ci è stato descritto, ci sono. I problemi reali ci sono in tutta Italia e stiamo al lavoro H24 per risolverli. È chiaro? Poi non sempre facciamo le cose giuste, commettiamo anche noi. Siamo di fronte ad una situazione del tutto nuova, però la collaborazione è necessaria. Le polemiche lasciano il tempo che trovano e sono del tutto inutili a risolvere i problemi. Gli italiani ci chiedono di risolvere i problemi, non di fare polemiche da campagna elettorale. Perché a Venezia si vota e allora bisogna andare a testa bassa contro il governo. Se non le dispiace, tanto o meno ascoltate la gente che è in mezzo alla gente, non ascoltate nessuno voi. Questo è il problema. Massimo, ci proviamo? Sindaco, ci stiamo provando. A noi non ci chiama nessuno, non ci chiama nessuno. Ma quali soltetti problemi? Ci proviamo a farci ascoltare. Vediamo un attimo che cosa ne pensa il direttore del Sole 24 ore. Andiamo un attimo, direttore.